Salve a tutti, grazie per essere passati a vedere questo video in cui parliamo di sport Cercherò veramente di spiegare, dare il mio punto di vista su cosa sono gli sport In modo molto semplice, ok? In modo tale che non ci siano poi dubbi sul discorso ma gli sport sono uno sport Ma il gioco e invece il videogioco che differenze ci sono Quindi ci tenevo a fare un video per spiegare bene in modo, secondo me, inconfutabile Cosa sono gli sport, perché gli sport sono uno sport e la differenza tra un gioco e uno sport, va bene? Allora, partiamo dalle cose semplici, cercherò di non essere troppo, no, troppo prolisso Ad ogni modo per chi stesse vedendo il video, io ci tengo che questo video lo guardi più gente possibile Quindi passate a farlo vedere ai vostri genitori così a meno che possano capire veramente cosa sono gli sport Io sono Riccardo Vigio Zanocchio, sono stato giocatore professionista, sono stato cyber atleta o professionista del campo degli sport Per molto tempo, ok? Quindi ho abbastanza trust per poterne parlare Partiamo dalle basi comunque, partiamo dall'inizio Allora, noi qua, signora lì, che suo figlio l'ha chiamata a vedere il video perché dice che gli sport non sono uno sport Allora, glielo spiego io come funziona Noi qua nella realtà, no, che tutti conosciamo abbiamo due tipologie di, tra virgolette, intrattenimento Non lo so, che sono comunque simili Abbiamo da uno a lato c'è lo sport e dall'altro c'è il gioco Sport e gioco si assomigliano, sono vicini perché simili sono i valori che trasmettono Quindi nel gioco c'è il confronto, tramite lo sport uguale c'è il confronto Con l'altro, con se stessi, c'è la possibilità di conoscere persone nuove, si può socializzare Quindi sono dei valori positivi che li accomunano, gioco e sport, ok? Lo sport, per sport cosa si intende? Guardiamo un po' le olimpiadi Lo sport si intende un'attività che richiede uno sforzo fisico Questo è La dimensione dello sforzo fisico non dà più o meno dignità a uno sport Quindi significa che non è che la maratona che fa una fatica della madonna valga di più della carabina o tiro con l'arco Va bene? Penso che per essere sport, penso che quando si vale l'impiadi c'è il tiro con l'arco, c'è l'equitazione, c'è la carabina Quando spari con la carabina, signora, quando spara con la carabina sta ferma però, eh Non è che fa grosso sforzo, sta il click, fa il click Però è considerato sport, va bene? Perché? Perché non è lo sforzo fisico a determinare se un'attività è sport oppure no Non è la quantità dello sforzo fisico, ma bisogna fare sforzo fisico Benissimo Poi dall'altra parte ci sono i giochi Sempre qua nella realtà I scacchi, la dama, il poker, l'oldem, i giochi di carte, carcassone, coloni di katan Qualsiasi attività Il gioco, il gioco Benissimo Il gioco può essere come gli scacchi, avere una percentuale di, diciamo, fattore caso 0 E tutto abilità Questo è il caso degli scacchi, 100% 0 Completamente pura skill, tra virgolette, se vogliamo chiamarla così In quel lato, e poi sono altri giochi in cui c'è una percentuale comunque di fortuna che può aumentare e diminuire Scelta anche, diciamo, per rendere il gioco fruibile e divertente Benissimo Ok, questa è la distinzione tra gioco e sport Il calcio è uno sport, non è un gioco, va bene? Il baseball è uno sport, non è un gioco Benissimo Adesso abbiamo internet, abbiamo i computer Cazzo, i computer, incredibile Una scoperta fantastica, straordinaria Cosa cambia? Allora Perché si parla di e-sport? Secondo me l'errore che si è fatto tutti quanti Devi chiamare videogiochi Videogiochi Non sono mai stati videogiochi, signora Sono stati sempre videosport Va bene? Perché? Perché pure quando vai in sala giochi Che giochi a tetris con la closcettina e i due tasti Tu stai facendo un'attività fisica E io quindi questo lo considero sport Pari della scherma Pari della carabina Tiro con l'arco, corso, eccetera Non cambia niente Ci sono dei videogiochi Ok, chiamano videogiochi Sbagliate a chiamarlo videogioco Non è un gioco È uno sport È sbagliato il principio È un videosport Va bene? Ok In tutti questi videogame League of Legends Di cui si parla Dota 2 Street Fighter 5 Starcraft Qualsiasi Fortnite Qualsiasi gioco Richiede l'utilizzo di una periferica In questo caso non è l'arco Non è la carabina Ma è un mouse È una tastiera Benissimo È sport Però Venendo effettuato Tramite computer Si chiama I Electronic Sport Questa è la definizione Quindi c'è lo sport Lo fai qua Ok Quindi nello sport Puoi passare il pallone al centro campo Farlo a rovesciata Questo è il tuo limite Nello sport Il limite è determinato anche dalle leggi fisiche Che ci governano Da quello che può fare il fisico Benissimo Nell'Electronic Sport Che si presuppone il fatto che sia trasportato Qua Sopra un terminale digitale Le queste barriere Cadono Quindi la possibilità per l'essere umano Tramite il videogioco Di esprimersi Diventano superiori Rispetto nello sport reale Questa è la mia visione Va bene? Ok Poi cosa succede? Che ci sono anche i giochi No? E questi giochi vengono presi E vengono portati in formato digitale Quindi hai Coloni di Catan Benissimo Ci sono anche su Su app di cellulare E sul pc Scacchi Benissimo Sono stati trasportati Magic C'è il Pro Tour È stato trasportato in digitale Benissimo Airstone È sempre stato in digitale Si può portare in cartaccio Certamente Si potrebbe portare in cartaccio Per assurdo Sulle carte Discover Prendi Se devi discoverare una carta Al tuo deck Lo copi Fai 30 carte uguale Fai random E la tiri fuori Cambia niente È semplicemente Un gioco Portato in digitale Quindi io lo considero Un E-game Non è un e-sport Airstone è un'altra cosa Visto che c'è stata tanta discussione su Questa è una parentesi Che gli ostacoli Relativa a cosa sono gli sport E cosa sono Gli game Cioè è giusto far distinzione Ragazzi È giusto far distinzione No perché se poi dopo si prende E si fa vedere Un torneo di Airstone A gente che non ne capisce niente Di sport Ed è la prima volta che li vede E uno va lì e gli dice Ma questo però è sport Deve andare all'olimpiadi È disciplina sportiva La gente si incazza E state prendendo un granchio Tutti quanti Tutti quanti Allora Siamo d'accordo sul fatto Che magari la gente dice Sì ma però negli e-sport Si intende tutte le competizioni elettroniche Allora Per le competizioni elettroniche Nelle competizioni elettroniche Ci sono i tornei di League of Legends I tornei di Airstone I tornei sia di e-sport Sia di game Benissimo Sono competizioni elettroniche Ma la parola e-sport Sport C'è dentro lo sport Capite? Non puoi far passare Un gioco come sport È lo stesso principio Del poker online Che a un certo punto In Italia si è cominciato a dire A parlare di Poker sportivo È una puttarata Non è sportivo Va bene Io ho giocato a poker 8 anni Ho fatto il coach Non è sportivo È un gioco Non confondiamo le cose Non confondiamo le cose Si crea tanta confusione Tanta confusione Quindi League of Legends Tutte queste piattaforme In cui si utilizza mouse e tastiera E c'è una componente di skill Che io per skill Intendo La coordinazione Occhio mano Come ci può essere In qualsiasi altro sport Nel mondo reale Al posto di utilizzare Pallone da calcio Utilizzi mouse e tastiera E il pc Va bene? Cambia il terminale Ma c'è sforzo fisico E quindi è uno sport Visto che è portato Sul mondo digitale Si chiama E-sport Quando noi andiamo a prendere i giochi Va bene? Quando noi andiamo a prendere i giochi E li inseriamo nel calderone degli sport Noi gli sport Li stiamo danneggiando Va bene? Li stiamo danneggiando E non mi interessa che Ah ma io volevo fare il cyber atleta Io volevo fare gli sport No Accontentatevi Non c'è niente di male Di essere giocatori professionisti Io ero contento di essere un giocatore professionista di poker Ma anche me la sentivo Andavo al bar Andavo a vedere Ragazzi Dicevo che fai di messire Faccio il giocatore professionista di poker Non è che quelli mi dicevano È una stronzata È la stessa cosa Per Erston Giocatore professionista di Erston La preparazione di un cyber atleta La preparazione di un giocatore professionista Sono differenti Non c'è nulla di male Nell'essere un giocatore A posto di essere un cyber atleta Sono due cose differenti Cyber atleta si prepara in un modo E ha di fronte delle sfide di un certo tipo E ha un tipo di preparazione Per un cyber atleta La preparazione fisica è molto importante Ma dico proprio fare palestra Attività Soprattutto per un giocatore di CS Va bene? Perché? Perché Deve funzionare bene il corpo Cazzo È uno sport In Erston Come nell'Oldem La preparazione È differente È qua Il giocatore Ha dei valori differenti Da cyber atleta Il giocatore deve affrontare la grind Il giocatore deve avere un mindset d'acciaio Il giocatore sa che deve stare calmo Perché al gioco Vince spesso chi è più fortunato Io l'ho visto Secondo me erano molto più Sono molto più stressati i giocatori Degli sportivi Per quando devi fare la finale di un gioco Sei lì che sei stressatissimo Perché non puoi sapere come andrà Invece quando fai sport E devi giocarti una finale Devi disputare una finale Certo sei teso Ma sai dentro di te quali sono le tue capacità Sai che bene o male Hai una certa percentuale di controllo Al gioco questo controllo È piccolissimo Lo capite? Capite il mio discorso? Capite quello che volevo dire? E questa è la delusione poi Quando si guarda Erston Io non so se Blizzard faccia passare Erston Come in sport Non penso Però prendere e mettere tutto Nel calderone Delle competizioni digitali Chiamando tutto E-sport Perché? Perché l'e-sport tira Perché l'e-sport è figo Perché voglio anch'io salire sul carro degli sport Non mi sembra giusto Secondo me sembra A mio avviso è fare confusione A mio avviso prendere e dire Erston è un e-sport Al posto di dire Erston è un gioco Perché Erston è un gioco Va bene È un gioco Ma lo dico io perché inizio è un triggerato Raga Mi sembra di averlo spiegato in modo chiarissimo Chiarissimo Sono due cose differenti C'è il pro-tour di Magic C'è il pro-tour di Erston Nel gioco ci sono team Squadre Professionisti Assolutamente C'è dignità Come anche nello sport Non cambia niente Non è che uno sia meglio dell'altro Capite? Però a non far bene chiarezza Poi si rischia di prendere i granchi Perché ve lo ripeto Quando prendi una persona E gli dici Fai vedere un torneo di League of Legends E dici Questo è di sport Una persona che non le sa niente dice Va bene Ci può stare Quando prendi una massa di persone Che non le sanno niente E gli fai vedere un torneo di Erston E gli dici Questo è e-sport E deve andare alle Olimpiadi E la gente si cazza E c'ha ragione Lo capite? Si fa un gran casino Togli dignità gli sport E' come se arriva una razza aliena E gli dici Vuoi vedere? Noi abbiamo lo sport sul nostro pianeta Sì E gli fai vedere la paleta dei scacchi E l'alieno dice Ma... Sport Lo capite? Io veramente Mi auguro di essere stato Chiarissimo La differenza tra sport e gioco Entrambi hanno valori simili Perché sport e gioco Hanno valori simili Che li rendono Capite? Compatibili Non sono la stessa cosa Nel gioco vince spesso Il più fortunato Nello sport La maggior parte delle volte Vince il più forte Ok? E basta Non c'è molto altro da aggiungere E gli sport Sono uno sport Perché? Ve l'ho appena detto Ve l'ho spiegato bene Semplicissimo Non è La grandezza Dello sforzo fisico A determinare La dignità di un'attività E allora Altrimenti tutti faremo la maratona Perché? Perché? Fa equitazione Sarebbe una sport Non sarebbe uno sport Allora Bagminton non è uno sport No C'è una componente di sforzo fisico Mano, tastiera Coordinazione occhio Di precisione Come può essere La carabina La scherma Gli sport Sono uno sport Che utilizzano una periferica Che è il pc Il mouse e il tastiera E vengono effettuati elettronicamente Quindi si chiamano Electronic sport Electronic sport Allo stesso modo Allo stesso modo Se giochi a carcassoni In formato cartaccio Stai giocando A un gioco in scatola Se lo giochi in formato digitale Stai giocando An elettronic game Ma l'e-game È diverso dall'e-sport Bisogna differenziarli Perché se li metti assieme Poi Fai un gran baccano Tutto qua Questo era tutto Quello che ho da dire Spero Spero di essere stato chiaro